Solo chi è cresciuto negli anni 90 ricorderà queste cose, wow, top 10 cose degli anni 90 che se le ricorda, solo chi è cresciuto negli anni 90 se le ricorda 1, ricordate cos'è questo? Esatto, è il Super Nintendo, wow, che bello Sonic 2, Leonardo DiCaprio nel famoso film La Barca Purtroppo è morto nel 1999 per il Millennium Bug, riposa in pace Leonardo DiCaprio 3, il Tamagotchi originale 4, le Spice Girls 5 ragazze imprenditrici che avevano un'azienda di spezie, purtroppo fallita nel 1999 a causa di un Millennium Bug 5, Lady Di, da cui i Beatles hanno tratto la famosa canzone Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Crushing contro un palo, Lady Di 6, ricordate cos'è questo? Un phon strano 7, il 14 luglio 1995, solo chi è nato prima di quella data se lo ricorda 8, il numero 9 è stato abolito nel 1999 per colpa del Millennium Bug 10, Craxi, fine E voi vi ricordate gli anni 90? Scrivete nei commenti che cosa vi ricordate se ne avete il coraggio Vi saluto come si faceva negli anni 90 La capiscono in pochi questa Ciao 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 Grazie a tutti.